buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola oggi ragazzi rispondo ad una persona di berlino in germania che mi scrive dottore ma se è vero quello che predica quello che dice fosse vero perché la massa la gente non lo fa perché nessuno ne parla in tv perché sui giornali non si predica perché 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 io rispondo a lui ma rispondo anche a te che mi ascolti in diretta secondo te se la gente capisse il potere della propria mente il potere che è dentro di loro e non fuori il potere che sta nel proprio subcosciente fatti questa domanda andrebbe da altre parti per trovare la soluzione girerebbe e spenderebbe senza girare altre cappelle o mettere la famosa tuta e andare in palestra rifletti il punto è un altro la domanda che da porsi è perché non ne parlano perché non ne parlano perché se tu avessi scaricato un audio mp3 dcs per capire di cosa sto parlando senza credere al sottoscritto neanche credere all'ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola perché l'ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola unica al mondo non è né religione né politica bene capiresti di cosa sto parlando che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa l'ipnosi da spettacolo l'ipnosi paura neanche con la stessa ipnosi conformista e commerciale aggiungo non ha nulla a che vedere neanche con la meditazione lo yoga le varie tecniche e discipline alternative che trovi in giro perché perché qui si parla di un livello molto ma molto alto molto ma molto profondo molto ma molto professionale per cui se tu o chi per te non credete al potere della mente dell'essere umano purtroppo siete costretti a vivere compensando come facevo io che tutto è scritto che esiste il destino che tutto è già stato scritto come pensavo quando ero uno studente lavoratore senza una lira in tasca ok pensavo che nessuno potesse darmi la soluzione ai miei problemi esistenziali ma anche materiali però guarda caso un bel giorno mi regalarono un libricino piccolino io da buon laureato con il massimo dei voti ripetevo sempre la famosa frase ho letto tanto non mi interessa perché perché il mio subconscio collegava libri mattoni a dolore a sacrificio a rinunce per cui evitavo sempre di leggere altri libri dopo laureato però quel libricino piccolino tascabile che parlava di materie mentali si leggeva scorrevolmente inizia delle prime righe mi appassionò e in una mezz'oretta lessi tutto e cambio la mia vita iniziai il viaggio del salmone andando al contrario a capire che c'era dietro 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 e oggi sono arrivato alla conclusione che il destino lo scriviamo noi con il nostro subcosciente anche se con la ragione con la logica con la razionalità non riusciamo a spiegarcelo non riusciamo a capire perché siamo sfigati sfortunati perché abbiamo il cancro il tumore il diabete le malattie non riusciamo a capirlo con la ragione perché ci cadono i capelli perché la pelle diventa rossa verde non riusciamo a capirlo perché ci tagliamo con un foglio di carta non riusciamo a capire perché facciamo un subconsciente tu non lo capisci tu non riesci a comprendere ma il tuo cosciente sai perché il vero perché subconscio ti ricordi la famosa frase il cuore le sue ragioni che la ragione non conosce o meglio la ragione le sue ragioni che il cuore non conosce girla come vuoi ma il succo è che il cuore il subcosciente l'88 per cento della tua mente mentre la coscienza il 12 per cento la razionalità per cui quando sono in conflitto quando cozzano vince sempre il tuo subcosciente ok senza ma e senza se ora l'improsi di cese vera professionale con la v maiuscola è un sistema più che un metodo di cese che porta la persona ad utilizzare audio mp3 di cese il proprio potere mentale ma anche sessione online di ipnosi di cese vera professionale con la v maiuscola che per il momento sono sospese però ti posso garantire che molte persone nel mondo di qualsiasi cultura razza religione hanno utilizzato audio mp3 di cese e hanno trovato sollievo e anche soluzione definitiva seguendo le istruzioni molto facile la prova di un nonno la prova di un igliota la prova di un piccolo naturalmente in base al problema che uno ha o che pensa di avere o che gli hanno affibbiato come una cozza vicino allo scoglio tipo no depressione no stress molto controllo dei nervi no passato negativo no ansia no panico ego entusiasmo salute ed esito eccetera 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 naturalmente con più audio mp3 di cese tu sbricioli un problema alla volta per cui più audio sbriciolano più problemi contemporaneamente ok che dire io ho cambiato la mia vita sono partito da ipnotista autodidatta circa 20 anni fa ipnotizzavo sulle spiagge al mare 10 20 persone alla volta per le strade nei ristoranti in tutte le mie aziende in tutto il mondo finché non ho incontrato il 2008 a causa di nictus che ha colpito mio padre la dottoressa rina bruni di los angels baby hills l'unica nel 2008 rispetto ai centinaia di luminari anche del mondo dell'ipnosi anche medica che non sapevano cosa fare che ha salvato mio padre in 30 minuti poi seguito con altre sessioni eccetera con l'ipnosi vera e professionale di los angeles baby hills del professore dottor migranche del grado della dottoressa rina bruni che poi sono diventati i miei maestri miei mentori miei associati miei amici per l'eternità ti posso garantire che io metto la mia faccia su questi schermi non per vendere perché sto bene per le prossime 37 vite lo dico non per vantarmi ma per ispirarti grazie a dio grazie alla mia mente grazie all'ipnosi di cs vera professionale perché ho ceduto tutti i miei diritti e l'associazione ipnologi associati los angeles baby hills io metto la mia faccia per darti l'ispirazione quel quid quindi a prescindere da me puoi anche andare presso un professionista dell'ipnosi vera professionale a v maiuscolo che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa l'ipnosi paura l'ipnosi da spettacolo della tua zona del tuo paese della tua città che può essere anche un camice bianco un medico uno psicoterapeuta uno psicologo che però abbia già affrontato casi come il tuo perché anche nel mondo dell'ipnosi purtroppo e nessuno te lo dirà mai nessun corso e nessun libro esistono i generalisti gli specialisti tu devi cercare lo specialista non perché ci siano degli effetti collaterali perché con l'ipnosi di cs vera professionale a v maiuscolo esistono effetti collaterali perché non ha nulla a che vedere con l'ipnosi conformista commerciale ma per non spendere soldi inutilmente d'accordo e ti posso garantire che vedrai la vita con con altri occhi con altri occhiali da vista con un'altra energia sarà sempre la stessa persona la tua personalità rimarrà sempre uguale ma senza il treno a mano tirato ok fammi tutte le domande del caso di risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e mi impegni visita il mio sito internet www.iprologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi autistrosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube e benessere ipnosi soluzioni di cs del dottor claudio saracino e faccio il condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita seguime anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni di cs del dottor claudio saracino un bacio un abbraccio amico mio amica mia e conclusione delle conclusioni non credere a chi dice non è possibile non si può perché così dicevano anche mio padre eppure mio padre è stato salvato all'ipnosi di cs vera professionale con la v maiuscola più di 11.500 chilometri di distanza nel 2008 12 anni fa su skype online adesso tutti si riempiono a bocca di online 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 ma non sanno neanche che cosa sia veramente un bacio un abbraccio dal dottor claudio sulla scena alla prossima ciao